Cominciare dalle scuole a masticare concetti e respirare aria diversa è quello che comunica il regista Marco Tullio Giordana ad un pubblico di giovanissimi presenti al cinema Citrigno di Cosenza per assistere alla proiezione del film sullea, la donna di Petilia Policastro che si è ribellata alla bandiera del malaffare. L'occhio del regista amante del paradiso terrestre, così definisce la nostra terra, è quello di un testimone oggettivo che attraverso Lea Garofalo e prima Peppino Impastato lotta contro chi mente e tenta di mettere i piedi sulla testa degli altri. Sono molto affezionato sia a Peppino Impastato che alla storia di Lea Garofalo, soprattutto a sua figlia che per fortuna è viva ed è oltretutto per i ragazzi, penso, me l'hanno mostrato proprio queste proiezioni in Calabria con le scuole e siccome hanno la stessa età quasi c'è una fortissima identificazione. La meglio gioventù in Calabria è quella in grado di fare cento passi, lo conferma Don Pino De Masi, referente di Libera per la Piana di Gioia Tauro. Ripeto sempre un'espressione di Sant'Agostino che la speranza ha due gambe, la prima gamba è la rabbia per le cose che non vanno, la seconda gamba è il coraggio di cambiarle. Ed è un giovane regino di talento l'attore protagonista del film di Giordana che ha rappresentato Carlo Cosco, il marito assassino di Lea. L'idea era quella di evitare assolutamente di rappresentare lo stereotipo del cattivo, dell'uomo di mafia, cercando anche di fare uscire una certa debolezza, una certa ignoranza di queste persone. Rossana Muraca per la CNews 24